Romina Power è una cantante, attrice e personaggio tv statunitense, nota al panorama del mondo dello spettacolo italiano per la sua storia d'amore con Albano Carisi Ma conoscete sua sorella? È stata con un artista famosissimo Classe 1951, nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951 Romina Power è figlia d'arte, infatti, è nata da due attori hollywoodiano Tyrone Power e Linda Christian L'ex moglie di Albano non è affatto figlia unica, infatti, ha vissuto la sua infanzia con i suoi fratelli e sorelle Stiamo parlando delle sorelle Anna, Terin e il fratello Tyrone Power Junior La sorella Terin è sempre stata al centro dell'attenzione per la sua discussissima storia con uno dei più grandi artisti italiani Avete capito di chi si tratta? Scopriamolo insieme.Terin Power, tutto sulla vita privata della sorella di Romina Power Terin era una delle persone più importanti della vita di Romina Power Purtroppo, è scomparsa il 27 giugno del 2020, all'età di 66 anni, dopo aver combattuto un anno e mezzo contro l'aleucemia La sorella minore di Romina Power era nata a Los Angeles il 13 settembre 1953 A differenza dell'ex moglie di Albano, ha scelto di vivere negli Stati Uniti d'America, ovvero, nel Wisconsin, malgrado amasse profondamente la terra del cantautore pullese, infatti, Cellino San Marco le rimase per sempre nel cuore Terin è stata un'attrice, ma ha scelto di essere un'insegnante di scuola superiore in una classe di ragazzi disabili Le due sorelle, nonostante abbiano vissuto per tanto tempo lontani, sono legatissime Il loro rapporto è sempre stato indissolubile. Ma sapete che Terin ha avuto un flirt con un noto artista italiano? Scopriamo di più Terin è il flirt con il noto cantante italiano, ecco chi è riguardo la vita privata di Terin, sappiamo che nel 1975, durante le riprese del film Il conte di Monte Cristo, conobbe l'attore Richard Jane Berlin, con il quale visse un flirt che durò pochissimo tempo Proprio in quel periodo, la sorella minore di Romina Power tornò in Italia e incontrò uno degli artisti italiani più importanti della storia della musica italiana Il grande e indimenticabile cantautore Lucio Battisti. La loro storia d'amore durò per pochi mesi, ma fece molto discutere, dato che lui era uno dei personaggi più chiacchierati di quegli anni Successivamente Terin, ha incontrato il fotografo Norman Sef, che è stato il suo primo marito